Sono Duilio Larocca del liceo classico Eschilo, Sefora Cassarino del liceo delle scienze umane Dante Ligieri e Aurora Talalita dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo, i vincitori del concorso fotografico Le Dune e Giolesi promosso dalla Soroptimist Club di Gela. Agli studenti vanno rispettivamente 200, 150 e 100 euro. All'iniziativa hanno partecipato anche il liceo scientifico Elio Vittorini e l'Istituto Ettore Maiorana. Ieri cerimonia di prevenzione nell'aula magna della scuola Luigi Capuana. Noi abbiamo riscontrato nelle scuole, nei ragazzi che sono stati numerosi nell'intervenire, un interesse che veramente ci ha colpito e ci ha fatto molto piagere perché noi miravamo proprio a questo. Miravamo proprio al, e il concorso aveva questo scopo, quello proprio di valorizzare l'ambiente e di far conoscere le Dune, le Dune e Gelesi che sono un patrimonio, un patrimonio del nostro territorio. Quindi questa cosa ci ha portato, ci ha veramente portato a migliorare e a creare e a fare questo concorso. Il dirigente scolastico Cetta Mongelli. La nostra mission da anni è conoscere per valorizzare la scuola per il territorio e quindi aprirsi. Gela, archeologica, storica, ma anche ambientalista, anche paesaggistica. Quindi il concorso Le Dune e Gelesi per noi era proprio assolutamente inerente al nostro POF e quindi quando il Store Optimist Club di Gela, preseduto da Maria Grazia Falconeri, di cui peraltro mi onora di far parte, mi ha chiesto la location. Per noi tutta la scuola e tutto il personale e i docenti è stata cosa graditissima, anzi siamo onorati di ospitarla. All'iniziativa di ieri, tra gli altri, era presente anche Francesco Vacirca, presidente dell'associazione Leopoldia Leopoldia, agricoltura, biodiversità e rigenerazione del territorio. Le dune sono valorizzate e questo tipo di attività di oggi è un qualcosa in più che dà ancora più visibilità alle dune e alla salvaguardia della Leopoldia. Da un punto di vista agricolo noi stiamo operando, abbiamo già costituito un'associazione di produttori, abbiamo realizzato un marchio che si chiama proprio Leopoldia, che ha la finalità di salvaguardare questa specie rara che si sviluppa solo nel nostro territorio, ma nello stesso tempo di valorizzare le produzioni agricole che vengono prodotte in questi ambiti, in queste zone sensibili, al fine di dare un di più ai produttori agricoli che ovviamente saranno sottoposti a un disciplinare e a un regolamento di produzione specifico sostenibile a basso impatto ambientale.